E' venuto il momento che tutti stavate aspettando Non riesco da solo a denunciare tutti i suoi titoli Dovrete darmi una mano, lo farete? L'atleta che sta per esibirsi è stato nove volte il campione della Russia E poi è stato per sette volte il campione europeo E ha vinto tre volte il campionato del mondo Si è portato a casa due medaglie d'argento olimpiche E qui in Italia a Torino 2006 si è laureato campione olimpico Sapete benissimo di chi sto parlando Signore e signori è qui a Pizzolo per voi stasera Il più grande battinatore di tutti i tempi Il vostro applauso per F. Kevin Bluschenko Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti